Prima di cominciare dicevo appunto che siamo qui per un seminario sul tema del traffico dei bambini perché stiamo celebrando la terza giornata di preghiera e riflessione contro la tratta. Il comitato che organizza è un comitato numeroso, è affidato la gestione alle due unioni delle superiori e dei superiori e in particolare lo porta avanti il progetto Talita Cum contro la tratta. Prima di lasciare la parola alla istituzione che molto gentilmente ci sta ospitando, vorrei ringraziare soprattutto la presenza dell'ambasciatrice signora Sally Hawksworthy della Gran Bretagna presso la Santa Sete, la ringrazio molto per la sua presenza e per l'appoggio che date a questo progetto e contro questa piaga dell'umanità. Ringrazio anche la sua eccellenza Maria Elvira Velasquez Rivas Plata, ambasciatrice del Perù presso la Santa Sede, molte grazie per la vostra presenza e il vostro supporto. Infine ringrazio anche la presenza di sua eccellenza Emma Madigan, ambasciatrice dell'Irlanda presso la Santa Sede che ci segue da tanto tempo. Lascio la parola al decano della Facoltà di Scienze Sociali della Pontificia Università Gregoriana. Buongiorno a tutti. All'inizio del nostro seminario di oggi vorrei salutare Carnal Truckson che verrà fra poco. La sua eccellenza la signora Maria Elvira Velasquez Rivas Plata, ambasciatrice del Perù presso la Santa Sede, gli ambasciatori e probabilmente il rector dell'università che sarà qui con noi, le madri generali e tutti i partecipanti. Io sono Giacchino Azezzop, il decano della Facoltà di Scienze Sociali. Sono lieto di accogliervi in questa sala dell'Università della Pontificia Università Gregoriana. Questa mattina parleremo del traffico umano, un fenomeno sociale prevalente nelle nostre società contemporanee, una realtà che mostra un altro volto delle nostre società, un volto brutto, non bello a contemplare. Senza essere un pessimista, io dirò che la persistenza della discriminazione a tutti i livelli della vita sociale crea delle nuove alterità che aprono la porta a una nomenclatura binaria fra le persone, il famoso binomio noi, loro, io, tu. Queste nuove alterità provengono della costruzione sociale delle identità individuali e collettive fra le persone e all'interno delle comunità, dei paesi, dei continenti. Ne segue la reificazione e la disumanizzazione di alcuni è l'aumento del potere degli altri sulla società. La tratta dei bambini e degli adolescenti è un aspetto del traffico degli esseri umani. Un minore vittima di tratta è ogni persona al di sotto dei 18 anni che è reclutata, trasportata, trasferita, ospitata e accolta a fine di sfruttamento sia all'interno che all'esterno di un paese anche senza che vi sia stata coercizione, inganno, abuso di potere e altra forma di abuso. A livello globale i bambini oggi sono diventati un terzo delle vittime della tratta. Su tre vittime due sono bambini e uno adolescente. Sono ancora migliaia in Italia i minori vittime di tratta, spesso soli o stranieri. I bambini e gli adolescenti sono sfruttati non solo nella prostituzione, ma anche nel lavoro, nell'accattonaggio e in attività illegali. Questo è il traffico peggiore, quello che occupa di più. Il seminario di oggi è organizzato dall'Unione Internazionale delle Superiore Generali e accolto qua in Gregoriana della Facoltà di Scienze Sociali. Con questa iniziativa cominciamo un cammino, un scambio di esperienze. Sono convinto e sicuro che questo evento non sarà l'ultimo. Vi auguro una felice e benefica mattina. Grazie mille. Grazie padre Giacchino, grazie per l'accoglienza. È stato un accompagnamento e una preparazione fatta insieme. E questa è la dimostrazione che possiamo collaborare, uomini e donne, laiche, laici e religiosi. Grazie padre. E anche per le parole che ci hanno introdotto a questa giornata. Celebreremo la giornata mondiale l'8 febbraio, che casualmente è un mercoledì e preghiamo che veramente Papa Francesco supporterà questa nostra campagna. Bene, prima di passare la parola al cardinale che lo stiamo aspettando, approfittiamo per lanciare lo spot che abbiamo creato per questa giornata e che si sta diffondendo in diverse lingue in tutto il mondo. Grazie a tutti. Sul nostro sito preghiera controtratta è disponibile in più lingue. Ci scusiamo per l'imprecisione che alla fine abbiamo messo i dicasteri separati perché è stato fatto prima del primo gennaio quando c'è stata l'unione dei diversi dicasteri. Quindi istituzionalmente ci scusiamo. Io non so se il nostro cardinale è arrivato, Albertina? Non è arrivato? Allora io approfitto per darvi delle indicazioni sulla giornata. Ci saranno tre sessioni. La prima sessione con la presentazione della nostra, della Presidente dell'Unione Internazionale delle Superiore Generali. Ribadisco che questa giornata non è organizzata solo da noi, è organizzata dalle due unioni ma da un comitato di realtà. Quindi la prima parte la chiamiamo un pochino più istituzionale, di quadro. La seconda parte ascolteremo delle esperienze concrete di persone che lavorano in diversi ambiti contro la tratta di bambini. E l'ultima sessione le abbiamo chiamata a voci di donne e quindi chiederemo a delle organizzazioni che sono qui presenti con le quali ci auguriamo di aumentare la collaborazione di darci dei flash su come le donne lavorano in questo ambito e per il futuro. Diamo il benvenuto al Cardinal Torxon. Molto piacere, benvenuto. Il Cardinale, come sappiamo, rappresenta in questa istituzione il nuovo di Castero, benvenuto, il nuovo di Castero per il servizio dello sviluppo umano integrale. Gli lasciamo subito la parola anche al centro come vuole, sì, per aprire i lavori anche se li abbiamo già aperti. Grazie. Ok, facciamo una cosa. E gran parte di voi, che lingua parlate? Metà e metà. Metà e metà. C'è qui però davanti a me un testo preparato in italiano. Quindi, per rispetto al posto dove ci troviamo, lo facciamo in italiano questa mattina. La prossima volta faremo in inglese, no? Ok. Bene, allora, Revolende, sorelle, suore, signori, signore. Desidero innanzitutto, chiedendo scusa anche per questa voce, questa mattina la voce non mi... non collaboro tanto. Comunque, innanzitutto ringraziare la comunità, la suora Gabriele, Gabriele, l'iniziativa talita come per questa cortesa invito ad intervenire in questa prestigiosa istituzione, con un breve messaggio sul ruolo della Santa Sede nel contrasto alla tratta degli esseri, dei minori soprattutto. Come sapete, l'Odien, ecco, il seminario tocca una questione di estrema gravità, cioè la riduzione in schiavitù di alcuni dei soggetti naturalmente più fragili e più bisognosi di assistenza e di incoraggiamento, anzi protezione. Ma questi sono anche, in gran parte, essenzialmente soggetti di dignità. Prima di essere soggetti di fragilità, sono soggetti proprio di dignità, perché la dignità è la cosa che siamo e possediamo da natura, non è una cosa che qualche governo ci regala, è una cosa che possediamo proprio della nostra natura. Quindi quando ci troviamo in situazione che non consente lo sviluppo di questa dignità, proprio siamo in situazione di schiavitù. Quindi, come ben sapete, la comunità internazionale è consapevole del fatto che i minori a causa della mancanza di maturità fisica e intellettuale che li caratterizzano, necessitano di una protezione speciale. Si è progressivemente allora dotata di diversi strumenti internazionali volti a garantire la loro tutela, tutela dei bambini. Accanto al celebre protocollo addizionale alla Convenzione della Nazione Unita contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta delle persone, in particolare le donne e i bambini, assume in particolare rilievo la Convenzione relativi ai diritti dell'infanzia, che insieme ai due protocolli addizionali, che lo completano quello su minori implicati nei conflitti armati e quello sulla vendita dei bambini, la prostituzione minorina e la pornografia rappresentante ai bambini. Si propone allora di assicurare ai bambini una serie di diritti fondamentali. Si può dire anche di assicurare ai bambini un senso di sicurezza. C'è da dire che la Santa Sede è stata tra i primissimi soggetti a ratificare la Convenzione sui diritti dell'infanzia, ed è parte anche ai protocolli aggiuntivi appena menzionati. Eppure, malgrado l'adozione di tutti questi strumenti internazionali, troppi bambini continuano ancora ad essere intrappolati nelle sottile malie delle reti di trafficanti e ad essere sfruttati per una moltiplicità dei scopi. Tra di essi non si possono non ricordare l'espianto di organi, l'auroramento da parte dei gruppi armati e gruppi terroristici, la mendicità forzata, il matrimonio forzato, il riluppamento nei mercati della prostituzione, della pornografia e degli stupefacenti e ancora lo sfruttamento lavorativo nei diversi settori dell'economia. Ciò dimostra, chiaramente, mi pare, che gli accordi internazionali, seppur necessari, non bastano. Non sono in grado da soli apporre un rimedio o fine a questa piaga. Se ad essi non si accompagna un generale, utilizzando di nuovo il linguaggio del Papa Francesco, un generale a conversione dei cuori e delle menti, non dobbiamo allora, infatti, dimenticare che la tratta delle persone, inclusa quella dei bambini, è alimentata dalla domanda, certamente di ricchezza, ma anche domanda di lavoro e prodotti a basso costo, e cioè anche nelle società opulente, nonché delle depurevoli richieste di organi, di stupefacenti e di prostituzione e pornografia minorine. Inoltre, poiché il fenomeno della tratta è parte del più ampio fenomeno della criminalità organizzata transnazionale, il contrasto a questa piaga richiede un'azione in rete. Come ben dimostra l'esperienza positiva di Talitha Cum e altri organismi, organizzazioni religiosi, anche laici, contro questo fenomeno. Qui si può parlare dell'iniziativa di alcuni missionari in Olanda, nel cosiddetto Red Line Zone, dove fanno visite lì a cercare un po' di convincere alcune di queste persone a lasciare, a liberare i bambini. Si può anche pensare un po' di un'altra iniziativa da un amico dell'Australia, The Walk Free Initiative, che è, ecco, questo è da un signore che lavora in una miniere, la fila del quale è andato in uno di questi paesi nell'Oriente, pensando di prestare assistenza a un posto per orfani. La sua grande distresse ha scoperto poi che quel posto è proprio un posto di trasporto dei bambini. E quando l'ha scoperto era così, diciamo, rovinata, è tornato a casa, ha riferito questo al suo padre, e il suo padre si è impegnato subito a creare un organismo per lottare contro l'attretto delle persone, incluso quelle trattate dei bambini. Quell'iniziativa è diventata, è considerata The Walk Free Initiative, poi che si è presentata qui al Vaticano qualche tempo fa, e che ha spinto anche l'Accademia per la Scienza Sociale a intraprendere una simile iniziativa. A proposito di questo, posso anche menzionare l'iniziativa delle polizie, per esempio di Londra, Inglaterra, che ha avuto ben tre iniziative e conferenze con noi, con il nostro di Cassero, la loro di Cassero, GCC e Pace, di come un po' lavorare nella città di Londra, per esempio, a liberare innanzitutto le donne e alcuni di questi bambini di questa prostituzione e schiavitù. Quindi è da lodare questa iniziativa di Talitacum e tutti i coinvolti, soprattutto voi, ecco, religiose, e di prestare tutta l'assistenza possibile. Alla luce, allora, di queste considerazioni, il ruolo eminente che la Chiesa Cattolica, sempre esperta in umanità, può rivestire nel contrasto alla piaga delle tratte dei bambini, si fa evidente. Grazie alla sua presenza capillare in molti aree del mondo, esse può e deve impegnarsi a prevenire e contrastare questo fenomeno sia attraverso la diffusione dei valori etici che attraverso una concreta azione in favore delle vittime. Da altre parti, la Sante Sede, in quanto soggetto di diritto internazionale, ha la capacità di intervenire presso le istituzioni nazionali e internazionali per sensibilizzarle ed incoraggiarle a questi temi. L'impegno della Sante Sede, nel contrasto alla tratta delle persone ed altre forme di schiavitù contemporanea, è ormai ben noto. Essa, per volontà stessa del Papa Francesco, da anni molteplica gli appelli affinché si ponga definitivamente un termine, un fine ad ogni forma di schiavitù, sia nel quadro della diplomazia multilaterale, sia attraverso dialogo con le autorità nazionali, all'uopo preposte, sia mediante l'accompagnamento e l'incoraggiamento delle chiese locali e delle organizzazioni cattoliche e non cattoliche. Oggi, l'impegno della Sante Sede appare ultimamente rafforzato a seguito dell'instituzione del Dicastero al servizio del sviluppo umano, con un settore particolare destinato a seguire tutto questo argomento di migrazione, rifugiati e la tratta delle persone. La missione proprio di questo nuovo Dicastero consiste nell'esprimere la solicitudine del Sommo Pontifice verso l'umanità sofferente, tra cui le vittime della tratta, soprattutto i bambini. Possiamo dunque affermare che mediante la creazione di questo nuovo organismo nella curia romana l'impegno della Sante Sede in favore delle vittime della tratta, delle persone e delle altre forme di schiavitù contemporanea venga in un certo senso istituzionalizzato. Mi sembra allora opportuno mettere brevemente in luce i compiti di questo nuovo Dicastero e con il suo settore che segue un po' particolarmente questo è il problema. Non so quanti di voi avete letto il motu proprio che dà inizio a questo Dicastero e i suoi statuti. Nessuno? Adesso qui c'è un po' di un alfabetismo. Ok. No, quello motu proprio che stabilisce questo qui richiede che quattro di Castelli della curia romana confluiscono, diventano un solo di Castello. Cioè, giustizia e pace, operatori sanitari, cor unum e migranti, passare a migranti e italiani. Questi quattro adesso diventano questo Dicastero che chiamiamo servizio sviluppo integrale, sviluppo umano integrale. Quindi, ecco, creando questo organismo il Santo Padre poi ha aggiunto che a tempus por momento egli segue personalmente il settore per migranti, rifugiati e la tratta delle persone. Così speciale è questo argomento per il Santo Sede e per il Santo Padre. Ha voluto seguire questo personalmente. Quindi c'è un settore in questo Dicastero che fa questo qui per il Santo Padre, che ha un accesso privilegiato al Santo Padre e proprio si mette a realizzare ecco il desiderio del Papa Francesco. Parlando con il cardinale che si occupava del settore del Consiglio per il pastorale dei migranti italiani, e gli interanti e gli dice che io sono benedetto perché il mio successore non è un altro cardinale o vescovo ma il Papa stesso. Quindi questo è un po' un po' un po' un po' particolare. No ma così proprio è la situazione. Ecco come sappiamo il Santo Padre dedica un po' di attenzione a questo problema perché è molto serio utilizzando diverse metafore la piaghe della sorrisera eccetera tutte queste espressioni. Comunque vorrei brevemente un po' parlare di questa nuova entità nella curia romana proprio il di che questo nuovo di castello per servizio dello sviluppo umano integrale è chiamato a realizzare in questo ambito questo ambito che discutiamo adesso è che si articola intorno a tre direttrici lo studio in vista dell'azione ricerca studi e dialogo con diversi attori e coordinamento di iniziative diverse quindi facciamo studi dialoghiamo e coordiniamo le iniziative degli organismi cattolici non cattolici nella chiesa e fuori anche fuori della chiesa il primo compito lo studio in vista all'azione consiste nell'approfondire e diffondere la dottrina sociale della chiesa affinché questa ultima venga tradotta in pratica per fare ciò il dicastero raccoglie notizie e risultati delle indagini valuta questi dati e rende partecipi gli organismi episcopali delle conclusioni dei studi perché essi questi organismi episcopali dunque la chiesa locale secondo le opportunità intravengono direttamente appare chiaro da questa formulazione che la prima e principale attività di questo dicastero è quella di studiare per mettere in pratica cioè per tradurre in azione nel rispetto del principio di sussidiarietà c'è ciò che possiamo fare qui al Vaticano ma ciò che le chiese locali i vescovi le conferenze episcopali devono e possono fare a causa di cui infatti l'azione a cui questo studio è orientato non viene realizzata direttamente dal dicastero ma è una finalità a cui sono chiamati gli organismi episcopali della chiesa locale la seconda direttrice si incentra sull'idea di dialogo questo dialogo ha per vocazione di essere aperto a tutti il dicastero allora entra in relazione sia con i governi e con gli organismi internazionali governative che con gli organismi della società civile impegnate anche al di fuori della chiesa cattolica nella promozione della dignità umana infine la terza direttrice consiste nel favorire e coordinare le iniziative delle istituzioni cattoliche che si impegnano per il rispetto della dignità di ogni persona e l'affermazione dei valori della giustizia e della pace questo coordinamento per esempio è il motivo della mia presenza qui e come sapete Caritas Internazionales fa un pochettino qualcosa di genere e come sapete altri organismi nella chiesa Missio Miserio eccetera tutti questi organismi si impegnano un pochettino a trattare questi temi quindi ci vuole un po' di coordinamento di queste diverse iniziative in conclusione desidero incoraggiarvi nella vostra azione quotidiana in favore delle vittime della tratta che ha già saputo ridare speranza a tante persone con l'aspicio che la nostra collaborazione possa e continuare e rafforzarsi affinché il di castello con cui lavoro presso l'istituzione nazionale può far sentire la voce della chiesa i valori religiosi cristiani e poi le iniziative che intreprendiamo in diverse forme quindi in questa riunione credo ne sono consapevole che avrei l'occasione di sentire e ascoltare tante testimonianze pratiche delle persone già coinvolti in questa lotta contro la criminalità e vi auguro tutto bene un buon successo anche a questo seminario grazie ringraziamo il cardinale per l'incoraggiamento per le parole noi restituiamo questo incoraggiamento per il lavoro diplomatico che voi potete fare perché veramente si abbia si chiuda sparisca questa piaga o questo dolore perché la dignità ce l'abbiamo per natura mentre invito suor Carmen e suor Gabriella a fare compagnia in questa prima sezione di questo seminario al cardinale voglio ricuperare due concetti che mi sembra dei tanti che sono stati espressi dal cardinal Turkson il lavoro di rete motivo per cui oggi siamo qui tanti e tante e veramente l'importanza della dignità per ciascun essere umano e penso che è questa passione che oggi ci porta io adesso lascio la parola a suor Carmen Samut missionaria d'Africa la sua congregazione lei è presidente dell'Unione Internazionale delle Superiore Generali a lei chiediamo veramente di dirci l'importanza di questo incontro e il ruolo delle religiose in questo cammino grazie grazie in the name dell'Unione 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 Generali I want to welcome all of you and to say special say my gratitude at seeing so many of friends brothers and sisters your excellencies here for this seminar as you know I suppose the day of prayer was first celebrated on the 8th of February 2015 at the desire of Pope Francis who requested the International Union of Superiores General and the Union of Superiores General the male and the female unions to promote this day from the beginning Talitakum the worldwide network of consecrated life committed against trafficking in persons was responsible for the coordination of the group of partner organizations that prepared the day internationally these organizations have representatives here in the audience and I thank them very especially for being here but also for having prepared this day of prayer and awareness which has become a whole week of activities and I will mention the congregation for consecrated life the new dicastery the service of integral human development the pontifical academy of science our caritas international the international union of catholic women associations and the work group against trafficking of the committee for justice and peace of the UISG and the USG I might have forgotten some organization also this in itself is already a success that we can work together to achieve a common goal more humanity in our world at the UISG we have a motto which says don't do alone what you can do together so thank you so much for this active collaboration we know that this same effort to come together to prepare and to pray to reflect and to do all sorts of activities is happening all over the world from the Philippines to South Africa Brazil Nigeria Australia many European countries to mention just some places to combat human trafficking our strength is in our being present and active in most countries of the world and that one of our objectives is to explore new ways of collaboration also with other faiths and religions each one's participation and effort is needed we are here today because we are all concerned and very much upset by the scale that trafficking in humans is taking and very especially trafficking in children they are just children not slaves how can we remain indifferent in front of just one child who is deprived of his or her childhood let alone millions of children who are forced into hard labor and dangerous activities in industries such as fishing agriculture mining are placed into the sex industry through pornography cyber sex there's also organ harvesting and I am just mentioning a few situations indeed men and women religious all over the world together with people of good will are involved in combating human trafficking identifying and helping victims promoting their capacity to find justice protecting vulnerable groups educating and awareness raising lobbying advocating assisting victims of victims assisting families of victims and so on we also try to be aware of how we might be complicit in promoting human trafficking and slavery through our consumer habits for as Pope Francis reminded us purchasing is not only an economic but also a moral action we need to continue campaigning for slave free products and to boycott products who use slaves in their supply chain can we imagine what we could achieve if together we only bought slave free articles or invested only in those companies who do not use slavery this would be in line with one of our first objectives as union to take a prophetic stance on some critical issues combating trafficking taking traffickers to justice helping victims is unfortunately not enough trafficking flourishes mostly where there is poverty a parent who has nothing to feed his children may easily be tempted to sell one of his sons or daughters an adolescent who feels he or she has not what it takes to live decently easily falls prey to traffickers it is therefore important that many of us work on the prevention side living and working in the peripheries of our societies so as to provide education literacy programs to find with the people concerned alternative ways of earning a living to raise awareness as to the suffering inflicted by human trafficking indeed our love for humanity our compassion towards our brothers and sisters drive us forward to do our part in order to make our world a better place to live in especially for the poor and those who suffer the inhumanity suffered by so many upsets us and we cannot just ignore what is happening the meeting of just one victim changes our life and our life's direction and pushes us to get involved hearing some success stories encourages us and we hope to do this today even if we are tempted to be discouraged by the dimension of the problem we recognize that every action in the right direction however small it might look brings change there are many lights already lit to eradicate human trafficking let us keep them a light and shining and let us make sure that more lights are lit every day thank you for listening grazie a Sor Carmen per le sue parole sono bambini non schiavi questo è lo slogan che noi abbiamo scelto nelle diverse lingue per la giornata mondiale del 2017 ed è quello di cui adesso Sor Gabriella che oggi è coordinatrice della rete delle consacrate contro la tratta Talita Cuma oggi qui rappresenta il comitato organizzatore della giornata mondiale che come ha citato Sor Carmen sono presenti qui diverse persone che poi avranno modo di presentarsi ed altre realtà come citava Sor Carmen che collaborano con le quali tutti collaboriamo contro la tratta buongiorno a tutti sono più conosciuta come coordinatrice di Talita Cuma e del comitato ma molto pochi sanno che quando lavoravo direttamente nel campo contro la tratta ero in Brasile per dieci anni ero proprio coinvolta sia con bambini e adolescenti e lavoravo proprio in questo settore e nella prevenzione nel tentare di trasformare la mentalità e la società attraverso azioni educative e formative quindi questo è il mio background diciamo alla base prima di arrivare in questo nuovo mondo che è Talita Cuma Roma e è proprio i bambini che mi hanno insegnato ad ascoltare a farmi delle domande quindi mentre preparavo questo incontro riguardando un po' i dati le informazioni e cercando di preparare forse più che tanti contenuti vorrei condividere con voi anche delle domande che sono aperte credo che questo seminario non è un punto di arrivo ma può diventare un punto di partenza per rafforzare questa collaborazione di cui abbiamo sentito parlare fin dall'inizio e che è fondamentale e vorrei proprio iniziare con un'esperienza di vita in Brasile erano proprio gli ultimi mesi prima che mi chiamassero a Roma partecipavo di un incontro formativo per professionisti dei servizi sociali impegnati con bambini e parlavamo proprio dello sfruttamento sessuale minorile che è una grossa piaga e uno dei pochissimi uomini presenti a un certo punto circa 40 anni psicologo impegnato direttamente con bambine vittime dello sfruttamento sessuale si alzò e disse ma io lavoro con queste ragazzine che si prostituiscono sono loro che si educono gli uomini anche a me si educono si è creato subito un vociare dentro il contesto dice si c'ha ragione queste bambine non servono a niente sono delle bambine cattive eccetera io ricordo e ho ancora presente la sensazione che ho avuto come in un film mi sono passate davanti le decine di bambine e di bambini che vedevo impegnarsi cioè che dovevano curare i fratellini che dovevano preparare da mangiare perché la mamma stava per strada a parlare con le amiche oppure doveva lavorare tutto il giorno e fin dalla tenera età erano costrette a dei lavori e a non andare a scuola o vedevo i bambini che conoscevo che facevano il trasporto non dimenticherò un bambino di 10 anni che trasportava i sacchi di cemento da 50 chili quindi mi sono passati come un film queste realtà di fronte e senza pensare come a volte adesso ho imparato a pensare Cardinal Tourgson non posso più fare come ero in Brasile ma ho detto ad alta voce ma chi sono gli adulti chi è l'adulto e qual è il ruolo degli adulti perché i bambini e le bambine devono essere i responsabili e soprattutto le bambine e le donne questa è una tendenza che sta crescendo e che credo abbia molto a che vedere quella che noi chiamiamo un adultocentrismo dove gli adulti hanno la tendenza a rimanere degli eterni giovani e bambini senza assumere delle responsabilità inizio con questo perché credo sia un punto fondamentale quando parliamo di tratta di minori è qualche cosa che dobbiamo prendere seriamente in considerazione la schiavitù diciamo che è stata abolita due secoli fa di fatto non abbiamo mai avuto tanti schiavi nel mondo come oggi e un'altra informazione che mi ha sconvolto che appunto queste Freedes ha pubblicato dice che non sono mai stati tanto economici cioè i prezzi sono veramente bassissimi si passa dai 45 mila dollari o forse parlavano di sterline del 1800 a una media di 115 120 per cui c'è stato veramente un abbasso del valore della vita umana e questo secondo me è sconvolgente e noi siamo qui in un pubblico di adulti oggi non abbiamo bambini e siamo qui per tentare di approfondire questa tematica e questo ci richiede secondo me lo sforzo di pensare a questa fase della vita che tutti noi abbiamo vissuto e guardando a questa responsabilità con gli occhi quindi la responsabilità che caratterizza il nostro essere adulti ma anche i bambini ci invitano a guardarla attraverso i loro occhi e non fare come l'uomo di cui raccontavo prima questo psicologo che interpretava con categorie di adulti come per esempio la seduzione atteggiamenti di bambine di 9, 10 o 11 anni e questo i bambini mi hanno insegnato veramente tanto anche attraverso lo schiamazzo i giochi la fantasia cerchiando ricordando questo nostro tempo dobbiamo imparare a lasciarci sorprendere dai bambini e chi ha questa esperienza di lavoro e di impegno quotidiano con loro loro veramente ci sorprendono ho dimenticato di far passare le diapositive due premesse allora quando parliamo di bambini le convenzioni internazionali ci dicono che i bambini sono tutte le persone umane quindi le persone al di sotto dei 18 anni di età e sempre tra le premesse della convenzione internazionale dei diritti per l'infanzia siamo invitati a tenere presente che la dichiarazione dei diritti dell'uomo dice che il fanciullo necessita di una protezione di cure particolari sia prima che dopo la nascita quindi i bambini rappresentano un periodo importantissimo e ampio per lo sviluppo della persona che presenta caratteristiche molto differenti dal concepimento fino ai 18 anni per cui noi sappiamo che sono delle esigenze veramente ampie e diverse mentre rileggevo questa cosa veramente mi facevo delle domande quanto poco ancora abbiamo riflettuto sulle conseguenze sulla implicazione della tratta per esempio nella fase è proprio di gestazione della vita cioè non abbiamo delle risposte ma credo che io vorrei portare due temi che mi stanno a cuore che sono delle domande grandi per esempio come ci relazioniamo ai bambini che nascono a seguito di violenza di donne vittime della tratta quali sono tutti i bambini che nascono da violenza ma quelle specificamente della tratta come sono considerati vengono considerati anche loro come vittime che tipo di supporto in più riusciamo a dare e anche sempre in questo contesto come possiamo riflettere anche a livello di bioetica sulle relazioni per esempio dei bambini che nascono dalle donne trafficate per l'utero in affitto cioè sono delle questioni veramente grosse ma credo che dobbiamo a un certo punto iniziare a pensare perché entrano noi sappiamo che esiste una relazione mamma bambino e anche dal concepimento noi questo lo crediamo fermamente e dobbiamo non so fino a che punto abbiamo ancora dato spazio a queste cose ma credo che lo dobbiamo fare perché il bambino è fin dall'inizio entra in questa relazione proprio perché noi abbiamo e qui mi permetto di dire un'altra cosa abbiamo una visione nel lavoro contro la tratta ancora molto individualistica la persona il soggetto lavorare con bambini ci obbliga e ci invita ad avere invece una prospettiva sistemica cioè dobbiamo intendere nel contesto e nella dinamica relazionale sia nelle relazioni primarie che sono quelle principalmente familiari ma anche della società della comunità e questo è fondamentale se vogliamo promuovere delle politiche un impegno che sia effettivo e che possa produrre dei cambiamenti nella qualità di vita dei nostri bambini la tratta di persone è un fenomeno antico e nuovo che anche se con caratteristiche diverse continua ad avere degli elementi di continuità la differenza grande è che oggi la schiavitù è illegale non è più riconosciuta dagli ordinamenti giuridici dei paesi che cosa di fatto dà continuità è il fattore economico e la questione del potere quindi abbiamo un potere economico che trova nello sfruttamento umano una fonte illegale di lucro certa e anche sicura e non molto pericolosa diciamo in molti in molti paesi ci sono delle punizioni maggiori per esempio per il traffico di droga che non per il traffico umano in Brasile abbiamo lottato per anni affinché la tratta di persone fosse equiparata nel codice penale con la tratta di animali silvestri che avevano più anni di carcere rispetto a chi trafficava persone e la tratta di persone mette anche in luce delle dinamiche delle assimetrie di potere prima dicevo adulti con bambini ma abbiamo anche altri fattori di discriminazione che sono lo stato socio-economico infatti non è un caso che la maggioranza delle vittime sono povere anche tra i bambini etnico-culturale quindi le minoranze etniche in diversi paesi del mondo la questione di genere del sesso di appartenenza non dimentichiamo che anche le ultime statistiche del dicembre scorso confermano che il 71% delle vittime sono donne anche dentro i bambini abbiamo il 20% bambini e 8% maschi bambini quindi la questione della donna è ancora un tema nella questione della tratta e un altro fattore che solo accenno nelle discriminazioni ma che vedremo dopo è quello legato alla migrazione cioè all'essere o no cittadino di un determinato paese avere o no dei documenti crea delle discriminazioni che sono degli elementi che favoriscono e che creano dei gruppi di rischio e di conseguenza la tratta di persone non è un caso che più del 40% delle vittime sono reclutate durante il processo migratorio non so se questo numero è aumentato avremo poi l'OIM che ci parlerà di questa cosa uno dei punti che discrimina la tratta di persone adulte dei bambini allora prima di tutto che cos'è la tratta credo che due parole è importante dirle uso questo schema che fa riferimento alla convenzione delle al protocollo di Palermo quindi alla convenzione delle Nazioni Unite contro la tratta che definisce la tratta a partire da tre elementi gli atti che qui vedete elencati quindi reclutamento trasporto trasferimento ospitare o accogliere che di per sé non è un reato si aggiungono poi dei mezzi che sono la minaccia l'uso della forza altre forme di coercizione rapimento frode inganno abuso di potere e qui le vedete e la finalità la modalità conclusiva che è diciamo il punto che caratterizza la tratta che è lo sfruttamento ecco per cui mentre per le persone adulte quando una persona è trovata in una situazione di sfruttamento deve dimostrare che è stata si trova in questa situazione di sfruttamento per e hanno usato dei mezzi quindi identifica la questione della tratta a partire dai mezzi per i minori quindi non deve essere consensiente perché uno dei problemi grossi che abbiamo è il consentimento per cui dice no ma io sono qui perché voglio già diventa difficile identificare come reato di tratta con i bambini questo non c'è quindi quando parliamo da 0 a 18 anni automaticamente è sufficiente trovare il bambino la bambina in situazione di sfruttamento pensiamo di sfruttamento sessuale e già identificato il reato di tratta di persone senza dover dimostrare nulla in più ok questo è importante per Papa Francesco ci ha ricordato che la tratta è una delle più dolorose tra le ferite aperte presenti nel nostro mondo e ancora di più quando parliamo di bambini e bambine di adolescenti è una ferita aperta non solo per loro e le loro famiglie ma per tutti noi ci riguarda tutti perché ci mette di fronte alla profonda crisi relazionale del nostro tempo dove non siamo più in grado di conoscere nell'altro o nell'altra sempre per ricordare il messaggio di Papa Francesco per la giornata mondiale della pace del 2015 non siamo più capaci di riconoscere nell'altro un nostro fratello o una nostra sorella e parlando di bambini potremmo dire un nostro figlio o una nostra figlia ma un oggetto da sfruttare per maggior lucro potere e piacere la gretta mentalità dello sfruttamento indiscriminato di tutte le risorse della vita umana è come un vortice che risucchia e che perpetua relazioni violente e disumanizzanti che distruggono il tessuto sociale e la vita abbiamo già visto le statistiche ma ve le faccio vedere in forma grafica perché sono più più facili quindi vediamo queste sono del sono tutte sottostimate alcuni dicono il 10% altri dicono che riusciamo a evidenziare una vittima ogni 200 gli studi sono diversi quelli che possiamo dire e che sono veramente sottostimate si parla che nel mondo alcuni dicono 21 milioni altri dicono 45 milioni quindi abbiamo dei numeri molto diversificati di questi il 30% e bambini quindi parliamo di milioni di bambini che si trovano in situazione di schiavitura i continenti che presentano la maggior percentuale di bambini quindi minori di 18 anni in relazione al totale delle vittime sempre secondo le Nazioni Unite sono l'Africa subsahariana e l'America centrale dove l'Africa subsahariana con il 64% e 62% cioè se ci pensiamo sono numeri che spaventano ma se vedete le percentuali sono abbastanza alte un po' dappertutto quindi sempre di più le vittime della tratta stanno diventando giovani e poi sentiremo che anche dentro i bambini ci saranno delle testimonianze anche lì di età sempre più giovani abbiamo già visto chi mi ha preceduto ha già detto le diverse modalità di sfruttamento quindi non le vorrei ripetere sono veramente non è solo lo sfruttamento sessuale sono sono diverse forse per aggiungere la questione delle adozioni illegali e mi permetto una volta ho incontrato una ragazza che alla fine di un incontro si è avvicinata e mi ha detto io sono stata trafficata per adozione illegale e la famiglia che mi ha adottato mi ha trattato come una schiava e mi ha fatto soffrire ogni forma di violenza e lei riusciva per la prima volta a parlare con qualcuno a capire che lei era stata vittima con la tratta quando aveva più di 20 anni è abbastanza comune per chi lavora in questa realtà sa che i bambini non parlano della violenza e dello sfruttamento perché sono veramente oppressi e sono manipolati quando riescono a parlarne a volte quando diventano adulti ma il dramma e la sofferenza lo hanno vissuto da bambini chi riusciamo a identificare quando abbiamo degli adulti che denunciano i vicini di casa dei parenti delle altre persone questo è un altro punto che dobbiamo tenere in considerazione due parole è stato toccato prima la questione del cybersex vorrei dire due parole perché è un mercato purtroppo in espansione che vede le Filippine come uno delle capitali i bambini fin dal primo anno di vita sono obbligati ad atti sessuali davanti una videocamera le loro immagini vengono veicolate via internet in tutto il globo soddisfacendo le richieste a pagamento e questo il cybersex lo sfruttamento sessuale in live streaming un tipo di sfruttamento facile a basso costo e a basso rischio basta avere una videocamera un computer e una piccola stanzetta la maggioranza dei clienti vengono da un contesto europeo o comunque occidentale e sono anche qui di sesso maschile secondo la coordinatrice di Talita Cum Filippine si stima che solo in questo paese sono migliaia le bambine e i bambini trafficati per questa finalità in molti casi i familiari sono responsabili per questo sfruttamento ho imparato a non giudicare negli anni che ho vissuto in questa situazione in Brasile e anche perché la maggioranza è spinta da una grave situazione di povertà indigenza e l'assenza di alternative effettive per queste famiglie anche se questo non giustifica assolutamente vorrei anche ricordare che alcuni bambini nascono come schiavi esattamente come nel passato penso soprattutto ai bambini che nascono da genitori che si trovano in situazione di schiavitù per debito e i bambini nascono già legati al debito dei genitori o degli zii questo succede da tante parti ma in modo particolare abbiamo delle testimonianze sia per chi lavora nel settore agricolo quindi sia per chi lavora nelle miniere le miniere d'oro del Ghana o di Coltan in Congo solo per citare due realtà e qui quindi ritornando la tratta di persone soprattutto di bambini è un fenomeno complesso che richiede un'azione congiunta e collaborazione che effettivamente stiamo costruendo con diverse organizzazioni e sempre di più si stanno unendo a noi e noi ci stiamo unendo a loro perché quando si collabora non c'è chi è davanti o chi è dietro ma è creare una circolarità di relazioni e credo che dobbiamo crescere almeno arrivando in Europa è stata la sensazione che ho avuto è che dobbiamo crescere non solo a collaborare con organizzazioni governative o non governative nazionali internazionali ma coinvolgendo la società civile le scuole i settori educativi noi qui dobbiamo veramente smuovere chi crea chi trasforma la mentalità e chi è impegnato in questo settore anche con i nostri bambini e con le nostre bambine insomma tutti e che cosa possiamo fare? Allora io mi porto tre domande la prima è che dobbiamo chiederci insieme come curare come prenderci cura cioè il curare non è solo quello del medico quando c'è la ferita ma è il prendersi cura prendersi cura della vita dei bambini della terra di chi mi è vicino quindi come trasformare quello che è lo sfruttamento nel prendersi cura e soprattutto il prendersi cura sia di chi si trova in situazione di rischio e di vulnerabilità ma anche di chi è recuperato dalla tratta per cui questo secondo me è un primo punto fondamentale e vorrei veramente ringraziare le tantissime attività a volte semplici non ricorderò mai una signora che ho incontrato mamma nonna che diceva ho deciso di fare la nonna di un bambino di una donna vittima della tratta per cui faccio come se fosse la nonna come se fosse il mio nipote quindi a volte noi pensiamo alle grandi cose ma ci dimentichiamo che il prendersi cura è fatto di piccole cose quotidiane e queste secondo me sono quelle che dobbiamo promuovere e far crescere la seconda è come prevenire e quindi offrire protezione e cura particolare a tutti in modo speciale ai bambini ma per prevenire perché non rientrino o non continuino questa vita di schiavi ma anche per prevenire che queste persone entrino nella tratta e prevenire che una persona diventi trafficante o che diventi sostenitore di questa realtà per esempio perché è cliente quindi nella prospettiva della domanda che è comunque questa dinamica economica che sostiene e promuove un incremento della tratta e poi il terzo punto è come trasformare quindi come implementare delle azioni che siano veramente trasformatrici responsabilizzando con determinazione tutti coloro che sono responsabili della tratta cioè i trafficanti ma questo mondo completo non solamente cioè la responsabilizzazione contrastando anche la corruzione e l'impunità ancora troppo diffusi quando parliamo di questo crimine dappertutto in tutto il mondo i bambini e le bambine sono il presente e il futuro della società e loro ci ricordano che la nostra umanità ha bisogno di superare questa cultura dello sfruttamento con il prendersi cura della vita umana e della terra i bambini non si importano dei numeri quando sono piccoli non hanno nemmeno questa dimensione della quantità le statistiche e i numeri importano a noi loro vivono questa relazione ogni persona è importante ogni persona è importante per i bambini loro ci ricordano che la relazione è fondamentale quindi abbiamo bisogno di prenderci cura insieme per curare le ferite dell'indifferenza della violenza dello sfruttamento degli abusi di potere e di tutte le disuguaglianze ringraziamo Sor Gabriella perché ci ha aiutato ad entrare dentro al tema con le varie sfaccettature Sor Gabriella è stata chiamata a Roma per questo incarico dopo diversi anni in Brasile e la sua esperienza informa quotidianamente il suo lavoro di responsabile questo penso che ci dica molto e Sor Gabriella ha citato diciamo e ci ha mostrato dei disegni fatti in un centro che accoglie vittime bambini e bambine vittime di tratta sono dei disegni pieni di speranza ma anche di dolore noi abbiamo raccolto in questo piccolo opuscolo per adesso solo in italiano delle storie di ragazzi e ragazze che sono uscite quindi storie di speranza e dentro ci sono anche questi disegni questo è un opuscolo veramente prezioso per ora in italiano uno scrittore Giampaolo Trevisi che è anche un poliziotto le ha rinarrate per renderle più fruibili per eventualmente un libro vediamo chiudiamo questa prima sessione voglio ringraziare il Cardinal Torxson Suor Carmen Suor Gabriella per averci dato le basi per continuare a lavorare con il Cardinal Torxson